Sì, benvenuti. Come vicepresidente del gruppo EQM vi ringrazio di essere qua con noi oggi per condividere questa importante tecnologia, cyber power. In questi giorni con il Salone del Mobile questo evento contribuisce a focalizzare l'attenzione di tutto il mondo su un settore di eccellenza del nostro paese che è quello del design e dell'industria del mobile. Si parla molto poco di vernici quando si parla di mobili. Lo stesso mobile, lo stesso progetto può cambiare completamente a seconda della finitura con cui viene analizzato. Oltre a uno studio dell'aspetto estetico fondamentale, noi lavoriamo continuamente su prodotti che possono essere sempre più eco-compatibili e che possano anche migliorare la qualità dell'ambiente che condividiamo. Chi è UEM? UEM è oggi uno dei tre tanti territori al mondo dell'impermigico allungo. Ci siamo specializzati in questo settore, facendo un'analisi su quello che poteva essere il futuro del settore. Il prodotto che ripresentiamo oggi, assolutamente innovativo, è un'ulteriore dimostrazione che le vernici non solo possono essere eco-compatibili, eco-friendly, non nocine, ma possono addirittura mettere rimento ad ambienti nocini. Noi siamo in un ambito di percorsi, siamo nell'ambito degli eventi indipendenti. Abbiamo avuto il piacere di partecipare alla realizzazione della struttura di Wilmot, che c'è nel cortile d'ingresso. Al di là però dei principi filosofici, queste strutture rappresentano la cosa importante che anche essa ha bisogno di protezione. Quindi gli interni di questa struttura sono stati realizzati con produttiva della serie Climavox. Silver Power si caratterizza con la sua capacità in buona sostanza di essere una vernici battericida. Si sfrutta la capacità dell'argento di essere un potentissimo disinfettante, una caratteristica questa nota da secoli, con una recentissima tecnologia che ha consentito l'impiego dell'argento per i nostri scopi, che è quella delle nanotecnologie. Pensate all'importanza che questo tipo di vernici e questo tipo di finitura può ricoprire in ambito di igiene è un requisito irrinunciabile, per esempio nell'ambito della ristorazione, ospedali e ancora in ambito domestico, cucine, camerette. Non credo possa esistere un obiettivo e uno scopo più nobile per un'azienda come la nostra in questo momento. Grazie. Grazie. Grazie.